Novità assoluta. Primo in Italia. Calendario 2023 dedicato a 12 donne straordinarie. Calendario interamente dedicato a 12 donne straordinarie che hanno lasciato il segno nella storia. Simili, ma diverse. Donne che nonostante abbiano vissuto in epoche differenti e abbiano svolto professioni diverse, hanno comunque molto in comune. 12 donne coraggiose e determinate che hanno lottato per le loro passioni e i loro ideali. Tutte da conoscere e ricordare. Il calendario contiene 12 illustrazioni originali che Martina Giacquinta, una giovane grafica veneta, ha creato per Smart Calendars. Realizzato in comodo formato 30x30 cm, pronto per essere appeso a un muro. Inoltre, sulle pagine del calendario, trovi QR code da scannerizzare per ascoltare gli audio con delle brevi biografie di queste 12 donne, che potrai ascoltare quando e dove vuoi, per conoscere la loro storia e tutte le curiosità della vita di queste donne fuori dal comune. 100% made in Italy. Progettato e realizzato in Italia, utilizzando materiali certificati. Ideale come regalo. Quest'anno, scegli i calendari di Smart Calendars.